Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per questo invito. Sì, no, va benissimo così, non ho bisogno di puntatori. Io non sono un medico, quindi mi scuserete per questo. Io sono un povero evoluzionista, mi occupo di evoluzione. Mi occupo di evoluzione umana in particolare. L'ho fatto negli Stati Uniti, poi da qualche anno in Italia, nell'Università di Padova. Mi occupo di quel processo che ha portato dalla ameba a Donald Trump. E tutti ridono perché è un dato oggettivo, scientifico, d'accordo? L'evoluzione è partita da un brodo primordiale ed è arrivata a Donald Trump. E chiunque di voi abbia dedicato almeno un minuto della propria attenzione alla capigliatura di Donald Trump si sarà accorto che la perfezione non è l'obiettivo dell'evoluzione, giusto? E questo è il tema di cui voglio parlarvi oggi. Due parole chiave le dico io, quindi non vale che le scriviate voi. Cioè, imperfezione e diversità. Saranno le due parole chiave sulle quali voglio ragionare con voi in pochi minuti. Grazie. Ah, giusto, devo anche girarle. Esatto. Dunque, innanzitutto il titolo, se mi mandate la slide. What if è già girato molto, l'abbiamo già sentito tante volte. Cosa succederebbe se? È bellissimo dal punto di vista evoluzionistico, perché il cosa succederebbe che è proprio una descrizione molto bella di come funziona l'evoluzione. È proprio il mestiere che noi facciamo. Molto spesso ci chiediamo cosa sarebbe successo se? Questo perché? Perché il presente che noi viviamo oggi nell'evoluzione è soltanto uno dei tanti possibili. Non è l'unico necessario. C'erano tante altre modalità, tante altre soluzioni che sarebbero state altrettanto probabili e altrettanto plausibili. Il mio maestro, negli Stati Uniti, quando facevo il dottorato, faceva sempre vedere una slide dove c'era una classe come questa, fatta tutta di dinosauri, di velociraptor in particolare, e c'era il professor velociraptor che faceva un bellissimo discorso dicendo, vedete, l'evoluzione doveva necessariamente portare a noi, perché noi siamo dei grandi rettili, siamo molto socialmente ben organizzati, dominiamo il mondo da 200 anni, e intanto fuori dalla finestra si vedeva l'arrivo di un asteroide che colpiva la Terra, proprio pochi secondi dopo. L'evoluzione è molto democratica, nel senso che chi domina in una certa epoca non deve mai rilassarsi, perché più uno domina in una certa epoca, più è specializzato verso un certo ambiente, più è in cima alla lista della prossima estinzione. Adesso vi dirò però una cosa consolante, che è questo, nessuno è perfetto, naturalmente questo ci piace molto, sentirlo dire, mia moglie piace molto quando lo dico, questa cosa, si sente... Questa in realtà è una citazione di Charles Darwin, il fondatore della mia disciplina, che dice una cosa molto profonda, adesso non ve la leggerò, però la potete vedere nell'origine delle specie, lo dice anche nei suoi tacquini privati, dice, ma io ho fondato l'evoluzione, ho capito il processo evoluzionistico, che cosa mi interessa veramente quando osservo il mondo, gli organismi, le specie? Non mi interessa la perfezione, dice Darwin, perché dove c'è perfezione non c'è storia, è già successo tutto, no? Dove io vedo un organismo perfetto, ben compiuto, ingegneristicamente molto ben disegnato, visto che siamo al Politecnico di Milano, beh, sono ammirato, però non è quello che mi interessa, perché lì è già successo tutto. A me interessa l'imperfezione, perché dove c'è imperfezione lì sta succedendo qualcosa, lì c'è movimento, lì c'è cambiamento, e quindi lui era interessato ai tratti vestigiali, alle parti inutili che riempiono il nostro corpo. Poi vi farò un esempio alla fine sull'invenzione forse più inutile dell'evoluzione, che è il maschio, l'esistenza del maschio, che è l'ultimo esempio che vi farò alla fine. Qui, vedete, altro stereotipo che possiamo distruggere, che possiamo mettere un po' in discussione, questo è sempre lui, che abbastanza in là negli anni, dopo aver pubblicato l'origine delle specie, che cosa succede? Succede che molti commentatori pensano di aver capito la teoria dell'evoluzione, questa cosa succede ancora oggi, c'è un sacco di gente che è convinta di aver capito la teoria dell'evoluzione, ne scrive su web, blog, eccetera, eccetera. In realtà quelli che l'hanno letto poi sono pochissimi, alcuni che commentavano l'opera di Darwin, già subito dopo l'uscita del libro, sostenevano che la teoria darwiniana sarebbe stata la definitiva dimostrazione che nell'evoluzione vince il più forte. E quindi darwinismo sociale, tutte queste idee che Darwin odiava, solo che ci dimentichiamo il fatto che Darwin non le amava per niente. Questo è lui, che scrive a un amico, dice pensa, ieri in un giornale di Manchester mi sono trovato bellamente preso in giro, si diceva che avrei dimostrato che è il diritto del più forte, e che anche Napoleone III ha ragione e che ha ragione ogni commerciante imbroglione. Pensa che stupidaggini. Ed è lui che lo dice. Quindi già a suo tempo, come dire, lui aveva capito che c'è il rischio, mettiamola così, di interpretare l'evoluzione come una grande marcia di progresso, dove la vittoria, la tendenza è del più forte, del più perfetto, del più prepotente. In effetti, se voi leggete le pagine di Darwin, ci sono alcuni passaggi dove lui giustamente dice che la natura è piena di sopraffazione, piena di violenza, piena di supprusi, di diseguaglianze, e questo lo notiamo chiaramente. Però è anche piena di ambivalenze, perché ci dimentichiamo sempre che lo scenario in cui avviene l'evoluzione è l'ecologia, cioè il fatto che noi siamo immersi in una rete di relazioni. E queste relazioni sono ambivalenti, possono essere relazioni negative, competitive, possono essere relazioni invece positive. Questa è una citazione che non si ricorda mai di Darwin. A un certo punto Darwin decide di farsi un film nell'origine delle specie. Lo fa spesso, questi esperimenti mentali, immaginarsi delle situazioni che non esistono. E qua vi spiega perché nei prati inglesi c'è una relazione strettissima tra la quantità di gatti e la quantità di trifogli che ci sono nel prato. Leggetela, vi spiega che se spariscono i gatti, spariscono anche, diciamo che la presenza dei gatti limita la presenza di certi roditori, i quali sono predatori di alcuni insetti, il risultato è che la quantità di gatti è strettamente legata alla quantità di insetti che poi impollinano i fiori e quindi sono legati alle piante. Il messaggio qual è? È che c'è tutta una rete di relazioni e quando voi nella natura intervenite, così come in un corpo umano peraltro, intervenite da un punto, dovete aspettarvi che ci siano relazioni sistemiche, no? Con relazioni che qualche volta non vi aspettate. Altro messaggio interessante che trovate proprio all'origine di questa storia, dell'attoria dell'evoluzione, è, Darwin ce lo dice, ma poi ce l'hanno detto anche altri grandi autori, oltre che filosofi, è un errore, se le cose stanno davvero così, e la scienza ci dice che stanno probabilmente, con ogni probabilità così, è un errore pensare che la natura sia un luogo nel quale cercare il bene e il male, nel quale cercare gli standard e la deviazione dagli standard. Non è un luogo dove cercare ciò che è normale da ciò che è deviante, perché in natura c'è tutto il contrario di tutto. La natura è un crogiuolo di diversità, contraddittorie, e non è il luogo dove dobbiamo cercare che cosa è naturale, quindi buono. Che qualcosa, in quanto naturale, debba essere per ciò stesso buono, è alquanto discutibile, potrei farvi tutta una serie di esempi, a cominciare da zanzare e tigre che ci pungono anche a dicembre, d'accordo? Giustamente, dal loro punto di vista, loro sono darwinianamente di grande successo, e se ne stanno approfittando di cambiamenti ambientali da noi introdotti. Su questo arriverò alla fine, perché ci sono molti miei colleghi evoluzionisti che stanno sostenendo che il participio di specie che ci siamo attribuiti, sapiens, sia alquanto esagerato, diciamo. Ora, il motore dell'evoluzione è quindi la diversità individuale, ok? Ora, state attenti a questa cosa che è molto importante. In che senso la diversità è individuale? In questo senso, no? Che, in fondo, se andiamo proprio al nocciolo della spiegazione evoluzionistica, ci dice questo, che non esistono essenze scritte nella pietra, nella natura, anche tutto si trasforma, e che il motore, anzi il combustibile del motore dell'evoluzione è la variazione individuale, è la diversità individuale, è il fatto che non ci sono deviazioni da un tipo ideale, ma che ciascun individuo biologico nasce unico. Questo è, forse, il messaggio più radicale, se volete, che trovate nell'evoluzionismo. Non esistono due animali, non esistono due piante, pur della stessa specie, pur della stessa varietà, che siano identici l'uno all'altro. Non esistono due dei nostri figli, nemmeno gemelli o mozzigoti, che siano davvero gli uni uguali agli altri. Perché la natura è una generatrice di diversità individuale? Perché è la diversità individuale che è direttamente proporzionale a quanto la natura è capace di cambiare e a quanto la natura è creativa. E voi sapete tutti che un altro dei messaggi importanti dell'evoluzione è che più tu rendi una popolazione biologica geneticamente omogenea, più quella popolazione sarà debole, non sarà capace di reagire ai cambiamenti. Vi faccio un altro esempio del perché la diversità è così importante e, diciamo, è legata anche, quindi, all'imperfezione di ciascun individuo, che a questo punto è positiva, nel senso che è il motore del cambiamento. Vi faccio un esempio che era molto caro a Stephen Jay Gould, che è l'autore che vi citavo anche prima, ed è l'esempio del panda. Forse ne avrete esito parlare, no? Ora, il panda è, WWF, insomma, è l'icona di una specie minacciata in via di estinzione. Giustamente, non voglio assolutamente mettere in discussione questo fatto, è fortemente minacciato, ha dei grossi problemi, si riproduce poco in cattività e noi gli abbiamo praticamente distrutto gran parte dell'ambiente. Però, mettiamola così, ci ha messo anche un po' del suo. Perché? Perché il panda è un orso, giusto? E da che mondo è molto gli orsi sono carnivoli. Il panda è vegano, nel senso che si ciba esclusivamente di bambù, d'accordo? Allora, nell'evoluzione, uno comincia a chiedersi, ma chi gliel'ha fatto fare a un orso di mangiare solo bambù? Questa è la domanda di partenza che non ha risposta, nel senso che non lo so, nessuno lo sa veramente. Probabilmente, un paio di milioni di anni fa, si è ritrovato, quindi quando ancora gli esseri umani non erano in giro a devastare il suo ambiente, si è ritrovato in un contesto isolato, in cui i casi erano due, o convertire radicalmente la sua dieta al veganesimo, oppure estinguersi. E ce l'ha fatta, perché è qui. Però se guardate e conoscete bene la fisiologia di un panda, il panda non è diventato vegano nella sua fisiologia, c'ha ancora lo stomaco e l'intestino di un carnivoro, e deve mangiare bambù tutto il giorno. Perché quando voi andate allo zoo, lui è sempre lì che sgranocchia il suo bambù? Perché ovviamente l'apporto nutrizionale del bambù è molto più basso di quello della carne, e lui deve passare praticamente la sua esistenza a sgranocchiare bambù. Una vita di inferno, d'accordo? Questo per dirvi quanto la perfezione e l'imperfezione dominano in natura. Ma la vita di inferno diventa ancora più di inferno, perché, non so se avete notato un dettaglio, provate a prendere un orso e a fargli afferrare un bambù. Non ce la farà mai, no? Con lo zampone, la zampa di un orso, non riuscirà mai a prendere il bambù, giusto? E questo è un altro però esempio di come l'imperfezione può diventare creativa, perché il bambù, e scusate, il panda ha sei dita, non ne ha cinque. In realtà ha un dito aggiuntivo, che è un falso pollice, per cui cosa è successo? Ecco, è così imperfetto che è anche sparito di qua, eccolo qua, lo vedete ancora. Sostanzialmente che cosa è successo? Che uno dei riadattamenti molto imperfetti ai quali è stato obbligato il panda, è quello di trovare un modo di avere una preensilità sul bambù. E allora cosa ha fatto? L'evoluzione ha lavorato sugli ossicini del polso, ha sviluppato in modo molto più forte un piccolo ossicino che abbiamo tutti nel polso, che è questa nocca che si forma qui proprio in mezzo al polso, e l'ha fatta diventare l'osso portante di un falso pollice, di un sesto dito, che gli permette di afferrare il bambù. Infatti se lo vedete lì nella foto, lui non è proprio comodissimo, però diciamo che deve prendere il bambù, lo mette tra il sesto pollice e le cinque dita, e molto faticosamente riesce a mangiare il bambù. Non faccio altri commenti su una vita passata a mangiare bambù dalla mattina al sera, perché tra l'altro fai anche una fatica bestia ad afferrare e a portarti alla bocca. Questa è la vita del panda. Spero di avervi dato un'immagine un po' diversa da quell'idillio che sembra essere la vita del panda, come solitamente la vediamo. Ok, l'evoluzione è piena di storie di questo tipo, cioè di rimaneggiamenti. Ci sarebbe un termine tecnico per dirlo, ma in realtà sono rimaneggiamenti. Cosa vuol dire rimaneggiamenti? Vuol dire il lavoro del bricolore, il bricolage. Cioè l'evoluzione fa quello che può con il materiale a disposizione. Non arriva mai alla perfezione, fa quello che può, appunto. Cioè utilizza il materiale a disposizione, che è pieno di vincoli, e quando ci riesce, in modo creativo, ottiene a fitness, cioè ottiene successo. Questo è un altro bellissimo esempio di rimaneggiamento, è l'aerone nero africano, che è l'esempio più bello di riutilizzo creativo di una struttura, perché usa le ali, oltre che per volare, anche per cacciare. E quindi ha imparato che se lui, lo vedete, è lì nascosto, lui praticamente chiude le ali a cerchio sopra l'acqua, fa un cono d'ombra nell'acqua, e questo ha imparato, gli permette di vedere l'ingresso dei pesci nel cono d'ombra, perché fanno un ultimo riflesso prima di entrare nel cono d'ombra. E quindi entrano dentro, lui se li mangia. La cosa pazzesca è che degli altri pesci perversi, che anche loro sono predatori di quei pesci, aiutano gli altri a entrare dentro il cono d'ombra, e quindi fanno tutti un banchetto generale con questo riutilizzo, diciamo, creativo. Questo è il concetto, che è un concetto tecnico, che in realtà noi poi abbiamo studiato per tante ragioni, cioè il shift funzionale, cioè il riutilizzo funzionale e creativo di strutture già esistenti. Avrete già capito dove voglio arrivare, il corpo umano è pieno di rimaneggiamenti. No, il corpo umano, il cervello umano è pieno di rimaneggiamenti. Il cervello umano di norma è fatto in modo tale che quasi tutte le strutture che ci sono all'interno del nostro cervello si sono evolute per altre ragioni rispetto a quelle che svolgono oggi, rispetto alle funzioni per le quali sono deputate oggi. Quindi il riutilizzo creativo è una regola molto importante in campo evoluzionistico. Quindi diciamo che il messaggio qui è che tutto ciò che torna utile nell'evoluzione può essere o dovuto alla selezione naturale che ha lavorato su una struttura implementandola sempre di più, in alcuni casi invece, in molti casi, l'evoluzione lavora riutilizzando ciò che c'è già a disposizione. Questo poi è anche l'argomento delle mie ricerche tecniche. Poi c'è anche un altro, in realtà, meccanismo che è molto interessante. Ve lo faccio vedere direttamente con un esempio. Nell'evoluzione noi abbiamo scoperto che ci sono molte situazioni in cui le cose non servono letteralmente a niente. Nel senso che proprio nascono e già quando nascono e si evolvono non servono a niente. Questo è una cosa strana, no? Perché noi siamo sempre soliti a pensare che nell'evoluzione, nella natura, tutto serva a qualcosa. No. La natura è piena di cose inutili. È piena di ridondanze. Il nostro cervello forse ha delle parti ridondanti, ma l'abbiamo ridotto molto a questa aspettativa. Il genoma, per esempio, il nostro genoma ha molte parti ridondanti. Questo è un esempio che è stato fatto da Darwin stesso, molto ingegnoso. Lui dice, beh, guardiamo le strutture del cranio, sapete, no? Che noi abbiamo il cranio che ha delle strutture che poi si chiudono e che, quando nasciamo, invece sono molto più flessibili, abbiamo anche la fossetta sopra. Uno dice, Darwin dice, beh, se io analizzassi il cranio dei mammiferi e mi chiedessi, a cosa servono le strutture del cranio? Perché il cranio dei mammiferi è così flessibile alla nascita? E uno risponderebbe immediatamente, beh, è ovvio. Perché negli esseri umani il cranio del bambino, del nostro cucciolo, deve passare attraverso un canale del parto molto stretto e quindi le strutture del cranio favoriscono il passaggio, lo rendono più flessibile nell'uscita. Bello, dice Darwin, molto corretto. Peccato che si scopre che le strutture del cranio esistono anche nelle teste degli uccelli e dei rettili, che devono soltanto rompere un guscio e uscire fuori. Allora, perché diavolo ce le hanno anche loro? Oggi abbiamo risposto a questa domanda, abbiamo scoperto che le strutture del cranio non servono affatto per la fuoriuscita del cranio del parto dei mammiferi, sono un adattamento molto molto più antico, anzi in realtà sono un effetto collaterale molto più antico, e che ingegnosamente, nei mammiferi, e in particolare in Homo sapiens, è stato riutilizzato, è stato riingaggiato per una funzione che non c'entra niente con la loro origine. Questa è una cosa importante. Nell'evoluzione un sacco di strutture oggi servono per qualcosa, ma non si sono evolute per quel qualcosa. Quindi se vi chiedete a cosa servono le gambe? Per camminare. Quindi si sono evolute per camminare. Sbagliato. A cosa servono le ali? Servono per volare. Quindi si sono evolute per volare. Sbagliato. D'accordo? Anche perché l'evoluzione è un processo lento. Quindi le ali, all'inizio, avevano solo un abbozzo di ali, giusto? Un 5% di un'ala. Ecco, provate voi a lanciarvi da una scogliera con un 10% di un'ala e vedete il risultato che fa. Non siete qui a raccontarlo, quindi i vostri discendenti non si sono evoluti, diciamo. Questo è un altro, diciamo, il concetto è ribadito da questo grandissimo genetista di Harvard. Richard Lewontin dice ditemi voi a cosa possono servire le impronte digitali, a cosa può servire il mento, per esempio, a cosa possono servire i lobby dell'orecchio, a cosa vi serve il dente del giudizio, a cosa vi serve l'appendice, se no farvi venire l'appendicite, a cosa vi servono le curve spinali sulla schiena, a cosa vi serve il coccige, se no a vedere le stelline quando cadete di schiena sulle scale, a cosa servono tutte queste cose? Non servono a niente. Perché non servono a niente? Perché però sono importanti nell'evoluzione, perché ci fanno capire la nostra origine quadrupede. E anche il DNA è pieno, come sappiamo, di strutture e di parti di cui non conosciamo la funzione. Questo è uno dei massimi esperti di enciclopedia del DNA, che sta facendo proprio l'enciclopedia di tutti gli elementi del DNA umano e anche della trascrittomica. E vedete cosa dice? Il mio mestiere è quello di addentrarmi dentro una giungla, una giungla di cui conosciamo ancora molto poco. E questo è un messaggio molto importante, che poi nella scienza, almeno in quella di cui mi occupo io, il bello è che è molto più ancora oggi quello che non sappiamo rispetto a quello che sappiamo. Il che vuol dire che abbiamo ancora tantissimo da scoprire, anche dal punto di vista delle applicazioni mediche. E se pensate, e questo è un bellissimo test che vi invito a fare, se pensate che tutto debba servire a qualcosa, che tutti i geni che abbiamo nel nostro genoma debbano servire a qualcosa, fate il test della cipolla, il test della cipolla, che è stato proposto da questo mio collega amico, che è Ryan Gregory, la cipolla ha un genoma che è cinque volte più grande del nostro. Noi abbiamo nel nostro genoma circa 22, adesso il calcolo dipende, 22-24 mila geni, loro ce n'hanno quasi 100 mila. Ora, con tutto rispetto per la cipolla, che, ciao, diciamo che è discutibile il fatto che la cipolla sia una specie molto più complessa, intelligente ed evoluta di noi, con tutto rispetto per il punto di vista della cipolla. Quindi, questo vi dimostra chiaramente che la quantità di geni nel nostro genoma non è affatto proporzionale alla nostra complessità e alla complessità della nostra struttura biologica. Anzi, avere un genoma troppo pesante potrebbe non essere una buona idea. Prima vi citavo il cervello e chiudo su questo con un ultimo spunto. Questo è un grande premio Nobel della medicina. François Jacob, che, vedete, alla fine degli anni 70 già lo diceva, no? Diceva che lui aveva studiato il genoma, scoperto il modello dell'operone, è stato un grandissimo genetista, e poi si è appassionato di neuroscienze e lui studiando il cervello, vedete, dite questo, uno guarda il cervello umano e dice c'è una neocorteccia dominante oggi che si inserisce dentro un sistema nervoso ormonale molto più antico che fa per conto suo e, insomma, descrive il cervello umano e l'intelligenza umana anche come uno straordinario bricolage. C'è uno straordinario modo creativo di riutilizzare parti vecchie innestate con parti nuove mescolate tra di loro e funziona. Non è perfetto, ma funziona molto bene. Ci ha portato, appunto, dalla MEBA a Donald Trump. Ultimo aspetto che voglio raccontarvi è questo. Naturalmente, adesso non ho qui l'immagine, ma l'icona di questo pregiudizio che l'evoluzione sia una storia di progresso, di perfezionamento, è quell'immagine che tutti avete visto tutti. Se cliccate su Google e fate Human Evolution, l'ho controllato ieri sera, trovate 35.000 occorrenze diverse, quindi un successo pazzesco, che è quell'immagine dello scimmione che parte sempre all'estrema sinistra, poi diventa sempre un po' più umano, poi diventa bipede, poi perde il pelo e poi sempre magicamente all'estrema destra diventa un maschio di Homo sapiens, bianco, con i capelli, senza la pancetta, tutto giusto, perfetto, giusto? L'avete vista un sacco di volte, viene usata anche nelle pubblicità. L'evoluzione invece è andata così, in un modo completamente diverso, è una storia, vedete, è un cespuglio pieno di specie, ciascuno di questi puntini è una specie diversa, questi sono 6 milioni di anni di storia e noi siamo questa cosa qua, siamo questo piccolo ramoscello lì in alto a destra, Homo sapiens è l'ultimo risultato di una storia complicatissima, siamo l'ultimo ramoscello di un albero estremamente complesso, si scopre che fino a poche decine di migliaia di anni fa su questo pianeta esistevano 5 specie umane diverse, 5 specie umane diverse, insieme con noi, che noi quindi siamo, come ha detto una volta un mio collega, un modo di essere umani, ma ci sono stati tanti altri modi di essere umani e pensate che noi oggi non sappiamo letteralmente perché siamo da soli qua, cioè se fino a un quarto d'ora fa dell'evoluzione c'erano tanti modi di essere umani, qui in Europa per esempio in Neandertal, perché i veri europei erano loro, noi siamo i discendenti di immigrati di colore in Europa, chiedo scusa se lo dico qui in Lombardia, so che mi da sempre stare attenti, però diciamo è così, nel senso che noi siamo africani, poi uno pensa ah ma stai facendo uno slogan, no, noi Homo Sapiens, europei, compreso Matteo Salvini, tutti quelli che volete, siamo arrivati in Europa 42 mila anni fa, quindi fate due conti, sono poco meno di 2 mila generazioni, 42 mila anni, prima qui c'era un in Neandertal, prima c'era un sacco di altra gente, perché una cosa che ti insegna l'evoluzione, che basta guardare bene c'è sempre qualcuno più autoctono di te, sempre, siamo arrivati qui e siccome i geni che producono lo schiarimento della pelle hanno 20 mila anni, se fate la matematica non è un'opinione, vuol dire che quando sono arrivati qua i nostri antenati europei erano di colore, cioè avevano la pelle scura, quindi non è uno scherzo quello che ho detto, ma è un dato scientifico, ripeto, è una storia di diversità, in questo caso di specie, di diversità individuale, che ha avuto un esito contingente finale, cioè la sopravvivenza di un'unica specie umana, e oggi noi scienziati stiamo proprio cercando di capire perché siamo rimasti da soli e non sappiamo rispondere. L'ultimo spunto che lascio poi ai moderatori e alla discussione con voi riguarda proprio un esempio fantastico di inutilità, che è il maschio, e quindi una delle domande, vorrei farvi due domande in modo da avere realmente una risposta da parte vostra perché sono due domande le quali non sappiamo rispondere noi, quindi se mi aiutate oggi mi fate un favore. La prima domanda è naturalmente cosa vi fa venire in mente l'idea di diversità rispetto all'idea di creatività e di cambiamento, cioè la scoperta di qualcosa di diverso è naturalmente destabilizzante per certi uno di noi, ma può essere foriero di cambiamento e di creatività, e poi se mi spiegate cosa serve il maschio, vi spiego perché è un problema questo per noi evoluzionisti e non riusciamo ancora a dare una risposta. Innanzitutto il maschio è pieno di parti inutili, so già cosa state pensando, smettetela di pensare a questa cosa, il maschio, diciamo, i capezzoli del maschio sono un esempio bellissimo che angustiava già Darwin peraltro, che aveva quindi un sacco di cose importantissime a cui pensare, tra le quali questa, a cosa servono i capezzoli del maschio? Lui non riesce a darsi una risposta, noi oggi lo sappiamo, cioè non servono a niente, ok? Sono un effetto collaterale di simmetria nello sviluppo che è dovuto al fatto che cosa? Che ogni individuo umano, in generale dei mammiferi, nasce femmina, d'accordo? La femmina è il sesso dominante, no? E noi biologi diciamo che il sesso maschile è un sesso ancillare. Adesso comincerò a dire in due minuti cose molto antipatiche per i maschi qua presenti. Le femmine sono il sesso dominante, dopodiché, nello sviluppo, se ci sono i cromosomi giusti, parte il testosterone che ti fa diventare maschio. Nel partire il testosterone, però, la simmetria in alcuni organi sessuali secondari come il seno è già partita, quindi il maschio non perde i capezzoli, ma li mantiene, quindi è un'inerzia, praticamente, un orpello che noi maschi ci portiamo dietro. Ma il problema è ancora più grave perché sostanzialmente noi evoluzionisti sappiamo che il sesso è costoso ed è molto rischioso, cioè la riproduzione sessuata richiede un investimento economico notevolissimo, non soltanto negli esseri umani, ma diciamo in generale in molte specie, ed è anche rischioso, perché, come sapete, ci sono moltissimi maschi, anche umani in questo caso, che rischiano la pelle per farsi scegliere dalle femmine, giusto? Quelli con il testosterone un po' più sviluppato. Naturalmente, la coda del pavone è paradigmatica, lui ha questa coda pazzesca perché è bellissima, perché in questo modo cerca di farsi scegliere dalle femmine, no? Ma state attenti, perché la femmina sceglie il pavone con la coda più bella? Non si dice mai l'altro lato della storia. Perché implicitamente la femmina sa che un pavone con una coda di cinque chili dietro se è ancora vivo o è molto fortunato, diciamo, o ha dei geni molto buoni. Perché un pavone che è una preda di un sacco di altri animali con una coda di cinque chili dietro dovrebbe essere il primo a essere mangiato. E invece è lì che corteggia una femmina. Quindi, questo principio dice che il pavone che si accoppia con le femmine è un sopravvissuto, d'accordo? Quindi, come dire, è complicata sta cosa qua, perché abbiamo inventato il sesso? Poi, un sacco di ricerche ci dicono che la femmina e la natura se vogliono possono fare tutto da sole ed è molto risparmioso. Possono colonarsi, partenogenesi, possono fare l'ermafroditismo. Ci sono un sacco di soluzioni alternative al sesso. Cioè, a situazioni in cui c'è un maschio e una femmina che devono fare tutta una serie di cose per unire i loro genomi e poi, come vi ho già detto, nel mondo animale sono le femmine a scegliere. Quindi le femmine sono autonome potrebbero fare quello che vogliono. Quindi, un grande enigma al quale non sappiamo ancora rispondere è allora perché esistono i maschi in natura? Se riuscite a darmi una risposta ve ne sarò grato che almeno vado via con una conoscenza in più. Grazie.